Ma scortate la polizia, ci fanno passare sotto la curva del Real Madrid, acqua in piena regola, sassaiola, pulma rotto, è vero, Giorgio Barretti, il nostro preparatore, tutto tagliato, poi tutti buttati per terra, sangue, casino, perché poi sai, rilassato, concentravo la partita, ad un certo punto arrivamo a chi stisarsi, mi spaventavo, io ho detto ci siamo, vai qui. Andiamo, andiamo in uno spogliatoio, lasciamo un po', andiamo a vedere il terreno del gioco, entro, 90.000, 100.000 e mi è venuto spontaneo. C'era, c'era il gruppo, i gilinaggi, i pierdo, i mici, sono venuti, poi mi sembra che vuole mai aiutare, insomma, risaprei partita, entro in uno spogliatoio e finisce il mister Mendoza, ce l'ha con te, Mendoza è il presidente, no? Dice che hai stigato il pubblico, ci hanno inciso, ci hanno massacrato, va bene, riscaldamento, a un certo punto, dopo riscaldamento, no, è vero, dopo riscaldamento sentivo, chi ha frequentato i spogliatori sa che ce ne stavano, io andavo in bagno e venivo non senza fare niente, oh, se stava così, quell'altro sacramentava, e sentivo questo rumore di questo asciugacapello. Prima di passare al finale di Coppa UEFA, vado là e c'era questo. La sfida tutta, bravo, bravo. Senti, vi che è calcio di spogliato, bravo. Grazie. Grazie. Grazie.